Eccoci con mister Mosconi, mister un giudizio sulla partita e se secondo lei insomma l'espulsione di Nappo ha un po' indirizzato la partita Vabbè, l'ha indirizzata però non bisogna parlare, purtroppo ha fatto una gestione, l'ultimo minuti di cartellini non è equilibrata e ha cambiato la regoletta partita perché a parte la prima persona anche in dieci però dopo ha squilibrato un attimino la squadra nel momento che la Sampo è stata proprio in netta difficoltà che poteva più perderla che vincerla perché penso che sia sotto gli occhi di tutti dopo vincono le partite, ci hanno ragione, va bene a loro però penso che gente esperta è così, capisce tranquillamente che è una partita, una vittoria immeritata e oggi hanno ragione loro, noi poi stiamo soltanto le carce ferite e le ripartite dalla prestazione partire dalla prestazione, essere più combatti, più forti di prima perché nel calcio è questo, non è questo purtroppo certe partite che magari non meriti vince, altre quando non meriti è il contrario però va bene, accettiamo il perdetto al campo con l'amare in bocca e vediamo la prossima come si può ripartire da un periodo negativo? questo è un periodo negativo perché è una flessione che ci poteva stare, anche fisiologica però va bene, si riparte dagli allenamenti, da lavorare bene e basta eravamo tutti consapevoli che era un campionato difficile, siamo partiti bene, forte, abbiamo fatto tanti punti e adesso inizia il nuovo campionato per fare grazie mister, in bocca al lupo grazie